Puzzle.me Puzzle.me è un progetto che nasce dalla collaborazione di due università, Tsinghua University di Pechino e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti a Milano. Noi in Naba ci occupiamo di fashion design e quindi abbiamo voluto approcciare questo progetto, il progetto dei costumi, come un progetto di moda, confrontarsi con il coreografo, con Margherita Palli per le scene, con tutta la drammaturgia che c'è dietro al progetto di danza. Miau e Stefania in questo momento stanno lavorando al taglio. Nello stesso momento abbiamo Valentina che sta lavorando invece alle stampe. Stefania è una nostra studentessa Naba, appena laureata, che sta seguendo questo progetto. Miau Ran è un ex studente Naba, nonché ora docente, anche lui cofirmerà i costumi, e Valentina, come invece ha una formazione più propriamente legata ai costumi, fa da nesso col corpo di ballo. Ciao, sono Stefania Cifarelli. Dopo aver essermi laureata alla Naba ho deciso di collaborare con questo spettacolo. Infatti durante l'anno ho seguito il corso di costume per lo spettacolo, che mi ha fatto appassionare a questo mondo. ed è molto interessante poter lavorare con i ballerini, seguire le prove e pensare ai costumi in funzione di un movimento della danza, e non solo in base alla pazzerella. Grazie a tutti. Grazie a tutti.